ciao Michele ed eccoci di nuovo qua come proseguono i lavori? proseguono che adesso praticamente stiamo tirando via la pompa dell'olio eccola qui la pompa dell'olio praticamente per sostituire questa pompa qua dovuto al pescante che va a finire nella coppa dell'olio perché lei viene in questa posizione qua quindi è impossibile non tirare la coppa quindi bisogna togliere la coppa e proseguire con la sostituzione della coppa questa è una pompa geometria variabile e per togliere la coppa come potete vedere è stato necessario smontare la slitta il motore è tenuto su dalla zahorra sopra con la catena come potete vedere e lì abbiamo una famosa slitta vi facciamo vedere e la slitta se non si toglie questa signora qua è possibile proseguire con la lavorazione grazie